Da capo vai! Allora ciao, sono Francesca Imposto e ho questa galleria al 28 di Piazza di Pietra da tre anni, il primo dicembre 2015 sarà il mio terzo compleanno, abbiamo realizzato più di 18 mostre in questi anni, questa è sicuramente una delle più importanti, come molte cose nella vita è nata da un incontro, l'incontro con Enrica Antonioni che mi ha dato il privilegio e l'onore di ospitare le opere di Michela del Maestro Antonioni in questa mostra, che durerà quattro mesi fino al 29 di febbraio e invito tutti a venirla a vedere, un Antonioni inatteso. E la prossima mostra quale sarà? La prossima mostra sarà una mostra di fotografie di Giuseppe di Piazza. Allora verremo numerosi, poi con la fotografia credo che interessi anche molto ai giovani. Sì sì sì, sono foto molto belle, scattate in gran parte a New York, quindi anche molto accattivanti. Ah ecco, quindi anche nelle strade, diciamo, nei soborghi, delle cose, no? Non lo so perché ci stiamo ancora lavorando. Vabbè comunque, insomma una New York vera. Sì, sarà una sorpresa. Come si chiamerà la prossima mostra? Ancora non c'è un titolo, sarà ad aprile, quindi... Ad aprile, va bene, comunque verremo. L'artista è Giuseppe di Piazza, comunque giornalista e fotografo. Benissimo, grazie, ciao Francesca. Grazie.